pattern scostumato innanzitutto unisco questo a me la tonica sarebbe bene, poi unisco cromaticamente ok? si, è un po' un giro è giusto perdere un po' di brio quindi pattern veloce così poi lo vedevo lento per dare in brio ok, per dare in brio sono decenzorassi video ma poca pareci un tema collegato, cioè con lo slide grazie a tutti grazie a tutti